Ciao Luca, ciao Carlo, ecco qua la tua Mustang del 67 cabrio, siamo qua a casa di Lynn, la vecchia proprietaria, gli ha appena detto ciao. Come vedi, eccola qua, te l'abbiamo già bella descritta, aria condizionata di serie, cambi automatico, console, tettuccia apribile. Lynn molto gentilmente ha già caricato tutti i vecchi ricambi nel bagagliaio, qui ci sono le vecchie tornece laterali, adesso la portiamo in officina, gli daremo una bella strigliattina, cambieremo il parabrezza, prendo tutto ciò che avrei bisogno. Motore, 289 8V, che ben sai, con lo York originale, servo sterzo, tutto sommato direi che è una macchinetta che dovresti essere contento alla fine. Noi ti ringraziamo e spero che questo ti faccia piacere, a presto, ciao Luca, ciao Carlo, ciao. Ciao.